matrimonio alessio e paola ventiquattresima ciao a tutti io sono stefano e io sono agnese perché ci dovreste ospitare beh io sono un paesaggista e potrei sistemare il giardino io sono un architetto e potrei pitturarvi casa allora ci vediamo il 24 maggio ciao ciao sono claudio no veramente sono io claudio e vorrei chiedervi se mi potete ospitare dovete ospitarmi perché sono siciliano e se non lo fate faccio scomparire foggia dalla cartina geografica ma sto scherzando sono un bravo ragazzo educato e sono anche un ottimo cuoco quindi posso prepararvi qualcosa di buono un bacio ciao ciao siamo io e giuseppe ci ci farebbe piacere essere i vostri ospiti perché vi travolgeremo con la nostra simpatia io sono peppe alessio se non muocevo un posto vai a domani da fiumara insieme ai giunchi ciao ragazzi sono andrea mi dovresti ospitare perché sono romano e sto simpatico ciao ma simpatico adesso sono i padroni di casa mi chiamo mario e sono un ragazzo napoletano perché non mi ospitate per un giovenaggio di tre giorni per partecipare a questo grandioso evento di alessia e paola ciao ciao amico di alessio mi chiamo elisabetta e il motivo per il quale mi dovresti ospitare che sono una ragazza simpatica carina e single non si sa mai buona noite mio nome è Everton di Pino sono qui del brasil rio di janeiro sto andando in maio per il casamento del mio amico alessio e paola che si casarà in Italia andrei anche a Londra e sto molto felice e aguardando questo grande momento un abbraccio e buona notte ciao sono Antonietta mi piacerebbe essere ospite a casa vostra per ricordare il periodo in cui anch'io ero scout e bussavo a casa della gente sperando che qualcuno mi accettasse come lavapiatti buongiorno io mi chiamo Marco sono di Pisa e vorrei tanto essere ospitato e questo è il pigemino che mi metto quindi lo potete dire di no perché è molto carino ciao io sono Francesco ciao io sono Laura ci siamo da poco sposati una ragione per cui per ospitarci che cucino una buonissima pizza e lei? e io una buonissima tortilla e patata ciao 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 ragazzi sono Claudio sono siciliano e ospitatemi perché? perché per colpa di questo video per questa scommessa con Paola gli devo fare la caponata ciao sono Nunzia mi dovete ospitare lì a Foggia perché devo partecipare per forza a questo bellissimo patrimonio grazie ciao sono Lorenzo e a maggio vengo a ballare in Puglia da Belfast con il mio amico Firmino grazie dell'ospitalità ciao sono capito ospitatemi e non ve ne pentirete ciao mi chiamo Rossella sono un'amica degli sposi se non mando questo messaggio entro i due minuti da lessi mi ammazza e sarò la persona che mi ispiterete e mi dovete ospitare perché sono simpaticissima ciao ciao sono Susanna e vorrò stare da voi perché mi dovete ospitare beh non lo so ma so che siete molto gentili e comunque di sicuro abbiamo una cosa in comune che sono Alessio e Paola e grazie ciao mi chiamo Grazia sono una ragazza socievole e simpatica please ho voglia di conoscere le vostre abitudini e soprattutto i vostri piatti tipici please ospitatemi ciao ciao sono Giorgia vengo da Rimini e se mi ospitarvi vi posso inocchiare le piante qualcos'altro? faccio un po' di lavoro in casa quello che c'è insomma ok se no che fai? oh e non chiedere top ciao sono Michelangelo vi chiedo di ospitarmi perché io tifo bisceglie e volevo capire perché appoggia è buona e ciao ciao sono Valeria vengo da Roma e questa volta tu casa e mi casa la prossima volta mi casa e tu casa ciao ciao io sono Rita e io sono Davide allora io fossi in voi non ci ospiterei soprattutto per causa sua ma perché? e poi perché vabbè grazie tesoro però allora io faccio l'igienista dentale io faccio il ricercatore di sicurezza informatica il suo lavoro è più interessante del mio secondo me però io fossi in voi lo inviterei per giocare a carte più che altro a me piace un sacco giocare a carte se avete un problema col computer posso provare a risolverlo ma non ci metterai la mano sul fuoco e poi lei se volete vi può spaventare raccontandovi di come tutti i cibi si attaccano ai denti a me mi spaventa sempre un sacco bene grazie a presto ciao 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 ragazzi sono Matteo provincia di Milano sono un grande amico di Alessio che ho conosciuto per la mia permanenza a Londra ora mi sono ritrasferito qua sulle montagne dove ormai vivo insieme con i miei amici stambecchi e le mie amiche marmotte e sono molto felice di venire al matrimonio di Alessio ciao vai ecco mi chiamo padre Riccardo Cordilone e vi chiedo vi dovete per la vostra cortesia aspettarmi perché si sa tutto il mondo sa per il matrimonio Alessio e Paola con tutto il coro veramente Amen Amen Grazie a tutti Grazie a tutti